Angolo battuto da Del Vecchio, basso, palla che esce, la raccoglie Farozic, esce dalla propria area, fa viaggiare Andrea Carlevaris, bello il controllo con la suola, va col Mancino in porta e arriva il vantaggio al minuto 7 e 20 secondi, ha segnato ancora una volta Andrea Carlevaris, maglia numero 49, Ariston 1, Broensis 0, azione di contropiede partita da una calcio d'angolo a favore del Broensis che poi però si sono fatti infilare dalla verticalizzazione di Farozic, diagonale chirurgico di Carlevaris 1 a 0. Grazie a tutti